Salve a tutti, sono Rita Mangiaracina della Zoppellari Golline Associati. Oggi insieme parleremo delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e la relativa informazione alla popolazione per gli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti. Allora proviamo insieme ad inquadrare questa problematica dal punto di vista normativo. La legge 132 del 1 dicembre 2018 con l'articolo 26 bis per la prima volta introduce l'obbligo da parte dei gestori degli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti di fornire alla prefettura le informazioni per la predisposizione di questi piani di emergenza esterna. Che cosa vuol dire un piano di emergenza esterna? Vuol dire una pianificazione rivolta alle emergenze che hanno una sorgente quindi un inizio all'interno di un impianto di trattamento e stoccaggio rifiuti ma che possono avere un impatto nell'ambiente e nel territorio circostante. La legge 132 impone per la prima volta questo obbligo però non dice i criteri per redigere tali piani e quali informazioni di dettaglio devono essere forniti alla prefettura per poter pianificare a sua volta questa tipologia di emergente ma impone circa tre mesi di tempo ai gestori per inviare le informazioni relativa ai propri scenari e al proprio piano di emergenza questa volta interno alle prefetture. Successivamente al dicembre 2018 in vista della scadenza fissata quindi per i primi di maggio uscivano due circolari esplicative che provavano a delineare le informazioni da riportare in questi piani. Questi piani che si quindi fanno riferimento da una parte a tutto quello che è l'ambito legislativo e ambientale quindi al DLGS 152 per tutto quello che riguarda appunto la tipologia di questi stoccaggi e questi trattamenti questi impianti da considerare sia la tipologia dei rifiuti da analizzare. Dal lato c'è la parte legata alla prevenzione incendi e alla sicurezza e saluti dei lavoratori quindi il DLGS 8108 nelle sue successive modificazioni e diciamo l'attualmente in via di pensionamento di M16 marzo del 98. Diciamo attualmente in via di pensionamento perché come molti sapranno a settembre dell'anno scorso sono usciti tre DM esplicativi del primo, del due e del tre settembre che sono andati a definire nel dettaglio quello che è la gestione della sicurezza antincendio sia in fase di valutazione del rischio sia in fase di esercizio che quindi in fase di emergenza. Inoltre diciamo essendo una pianificazione delle emergenze esterne la problematica poi si va ad inserire in quello che è il codice della protezione civile di cui la prefettura diciamo si configura come autorità di protezione civile sovracomunale. cosa richiede quindi il DPCM 27 agosto 2021 che è entrato in vigore il mese successivo e dava 60 giorni dall'entrata in vigore per ai gestori dei vari stabilimenti per anche in questo caso fare una comunicazione alla prefettura con le indicazioni relative ai loro piani di emergenza. Innanzitutto capiamo a chi si applica abbiamo detto gli impianti in cui si volgono lo stoccaggio cioè l'attività come definita dal 152 nell'articolo 183,1 lettera A e il trattamento dei rifiuti definito nello stesso articolo. Il DPCM fa un passo in avanti e include anche i centri di raccolta comunali ed intercomunali. Sono esclusi invece quegli impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti che rientravano per la presenza di rifiuti pericolosi con determinate caratteristiche in quello che è invece il campo di applicazione della normativa SEVESO cioè il DLGS 105 2015. Questo perché la normativa SEVESO cioè la normativa in materia sui rischi di incidente rilevante già impone agli stabilimenti classificati appunto a rischio di incidente rilevante di fare un'analisi degli scenari con potenziali impatti all'esterno dei confini dello stabilimento, una pianificazione delle emergenze interne e una pianificazione poi successiva da parte della prefettura delle emergenze con impatto all'esterno dello stabilimento. Quindi questo mondo era già normato il DPCM va a colmare diciamo questa lacuna tra virgolette che c'era sugli altri impianti dove però incidenti anche importanti sono avvenuti in passato e di tutti e tutti noi ne abbiamo ne abbiamo memoria. Quindi lo scopo delle linee guida è definire delle particolari indicazioni di intervento un modello, costruire un modello operativo per la gestione di eventi incidentali come incendi e diffusione nell'ambiente di sostanze inquinanti che possono avvenire all'interno di questi impianti. Quindi di che eventi stiamo parlando? Entrando in un maggior dettaglio innanzitutto di incendi quindi incendi di rifiuti sia combustibili che infiammabili, esplosioni che possono essere anche connessi a per esempio fuoriuscite di biogas che possono dare da una parte incendio oppure possono provocare la formazione di nubi di vapore che ad elevate concentrazioni possono poi esplodere oppure dispersioni di sostanze pericolose nell'ambiente quindi una contaminazione sia del suolo che eventualmente della falda sottostante, gli impianti di acqua superficiale nonché alla formazione di nube tossiche. Le nube tossiche per esempio possono essere connesse alla presenza in questi impianti direttamente di rifiuti tossici con determinate caratteristiche di tossicità ma possono anche essere direttamente una conseguenza diciamo indiretta degli incendi, cioè a seguito dell'incendio si producono delle nube di gas pericolosi, di gas tossici come NOX e EXOX che possono diffondersi nell'ambiente e avere una diffusione anche nelle zone limitrofe dell'impianto. Cosa richiedono queste linee guida? Le linee guida in pratica sono strutturate su tre parti fondamentali. Una prima parte suggeriscono un metodo a indice per la valutazione appunto di tali eventi incidentali. Questo metodo serve per definire una distanza di attenzione nell'intorno dell'impianto e sulla base della quale verrà poi fatta la pianificazione dell'emergenza esterna da parte dell'organo competente quindi della prefettura. Definiscono poi le linee guida in questo caso rivolte all'ente quindi alla prefettura, agli organi di soccorso per delineare la pianificazione provinciale quindi una catena di comande controllo e un modello di intervento cioè rispondere alla domanda chi fa cosa e quando la fa. Dopo ovviamente il gestore di questi impianti che è il primo che con le proprie squadre di emergenza può intervenire sull'evento svolgerà diciamo nelle prime fasi e il ruolo di protagonista nella nella possiamo dire nel primo intervento post evento e nel seconda parte dell'emergenza con l'intervento degli organi di soccorso si metterà a disposizione dei vigili del fuoco della prefettura dell'ARPA per fornire tutte le informazioni necessarie per gestire l'emergenza. Inoltre poi c'è una terza parte che comprende una serie di schede contenente i dati che il gestore dovrà fornire per supportare la prefettura nella definizione di tali piani. Cerchiamo mano a mano adesso di entrare nel merito di tale parte per capirne i dettagli e le richieste. La parte fondamentale di interesse per gestore è appunto il metodo ad indici per la determinazione appunto della distanza di attenzione. È un metodo che mi consente di parametrizzare il livello di rischio del mio impianto e in base al livello di rischio che associo con questo metodo a indice mi viene definita da queste linee guida la distanza di attenzione che poi sarà utilizzata nella pianificazione territoriale. Come possiamo vedere dalla slide che scorre sotto queste distanze di attenzione variano dai 100 ai 500 metri per gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti sono ridotte per i centri di raccolta in quanto si presume che siano caratterizzati da minor pericolosità rispetto agli impianti di trattamento e stoccaggio. Questo indice IR che è l'indice di rischio generale del mio impianto come è composto? È composto principalmente da tre fattori che mi determinano la propensione al rischio quindi un indice PR che è connesso allo stoccaggio dei rifiuti e un indice PT che è connesso alle operazioni di trattamento che vengono effettuate. In pratica questi rischi cosa fanno? Tengono conto del layout del mio stabilimento, della quantità e della tipologia di rifiuti che ne si sono presenti e sono degli indici che mi servono anche per calcolare quello che potrebbe essere una sorta di carico di incendio e quindi dell'impatto di un incendio che può avvenire all'interno di tali stabilimenti. C'è un indice FD che invece tiene conto del potenziale impatto sull'uomo e sull'ambiente e quindi tiene conto anche delle caratteristiche dell'ambiente circostante il mio impianto e poi invece abbiamo un indice compensativo che va a ridurre il livello di rischio diciamo intrinseco del mio impianto sulla base delle misure mitigative che i gestori hanno implementato per la riduzione del rischio. Queste possono essere misure preventive legate anche a tutto quello che è la prevenzione in termini di riduzione dei rischi legata all'81, la riduzione del rischio incendio intesa anche come misure organizzative e gestionali che sono implementate all'interno dello stabilimento. Tiene conto delle invece misure dei sistemi di protezione attiva e passiva per la lotta all'incendio nonché va a valutare quali sono le misure prese al fine di ridurre i rischi connessi alla security cioè agli atti dolosi. Questo vuol dire per esempio il controllo accessi, il presidio dell'impianto se è H24, se c'è una portineria, se ci sono telecamere perimetrali, quindi va a vedere quelle che sono appunto le misure intraprese ed attuate dai vari gestori all'interno dei propri stabilimenti. Una volta calcolato questo indice tramite una valutazione che deve essere fatta da un tecnico abilitato abbiamo il nostro livello di rischio e quindi la nostra distanza di attenzione. Cosa serve questa distanza di attenzione? Questa è quella che viene presa nella pianificazione territoriale per appunto determinare le azioni da intraprendere in caso di un'emergenza di questo tipo. Nell'intorno dell'impianto io andrò quindi a mappare questa distanza e andrò a vedere quali sono gli elementi territoriali sensibili sia di tipo naturale ma soprattutto strutture strategiche e rilevanti come scuole, ospedali, grandi vie di comunicazione ma anche abbiamo detto zone protette, corsi d'acqua per poi andare a capire che cosa devo fare in caso di evento, quali sono le azioni da intraprendere. Infine come dicevamo ci saranno delle schede richieste al gestore in cui il gestore trasmette tutte le informazioni aggiuntive utili oltre alla valutazione di analisi di rischio effettuata con il supporto del metodo ad indice suggerito in queste linee guida. Queste schede dati vanno poi a supportare la prefettura nella definizione del proprio piano. La prefettura con l'aiuto dei vigili del fuoco ha poi definito un portale, ha strutturato un portale in cui queste informazioni possono essere caricate in via automatica quindi il gestore può decidere anche in secondo alle comunicazioni che le singole prefetture competenti danno ai vari gestori se mandare tutta questa documentazione via PEC oppure se fare direttamente il caricamento dei dati e delle informazioni richieste tramite il portale messo a disposizione dalla prefettura. L'accesso tale portale deve essere fatto da una parte dal gestore che caricherà i propri dati, la propria grafica e si registrerà e dall'altra dal tecnico abilitato. Chi è il tecnico abilitato? Può essere un ingegnere scritto all'albo o può essere meglio un esperto antincendio certificato che va appunto a valutare, a riportare le risultanze dell'analisi svolta all'interno del portale. Tra le informazioni riportate ci saranno anche quelle relative ai referenti dello stabilimento, al responsabile dell'emergenza, ai componenti della squadra, quindi tutte le informazioni utili per fare una pianificazione coordinata. Spero di essere stata sufficientemente chiara anche se abbiamo avuto poco tempo a disposizione, per ulteriori approfondimenti potete contattarmi direttamente oppure andare sul nostro sito dove troverete i contatti della nostra società e degli altri tecnici. Vi saluto, grazie per l'attenzione.